Sono sicuro che ti sei riposto a questa domanda Perché continuo a perdere follower? E i tuoi post come sono? Qual è l'argomento? Partiamo dalle storie Metti in pratica questo trucchetto e fammi sapere poi nei commenti Per prima cosa entriamo in Instagram Poi ovviamente selezioniamo storia E andiamo fino in fondo dove c'è la lente Andiamo in alto nella ricerca e scriviamo Color Eye Glitter E andiamo a scattare la nostra foto Io in questo caso ho Ginevra E non è un po' difficile trovare il punto desiderato del colore Ecco fatto Una bellissima foto in bianco e nero Di Ginevra che ha voglia di bere l'acqua Scriviamo il nostro testo Ed ecco qua la nostra storia Con un colore totalmente diverso Hai provato? Hai sperimentato? Fammelo sapere Mi raccomando in direct Se ti è piaciuto il Reels Mi raccomando un tap tap Un mi piace E salvalo per non perdertelo Ci vediamo al prossimo Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti